Se volete aggiungere un nuovo token in ePassant Manager, iniziate facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. Poi cliccate su Profili di accesso alla porta e continuate a usare il menu a tendina per trovare l'utente che volete modificare. Una volta selezionato l'utente, fare clic su Aggiungi una credenziale. Selezionare il tipo di credenziale. Immettere il codice che appare sulla credenziale e scegliere il colore corretto. Una volta completati questi passaggi, è sufficiente fare clic su Salva e ripetere l'operazione per gli altri utenti.